Musica Studenti protagonisti all'Istituto di Nicola Sasso di Torre del Greco in occasione della Festa Nazionale degli Alberi. Un'iniziativa promossa ed organizzata in collaborazione con l'Associazione Prima Aurora e il Comune. Piantati nuovi alberi negli spazi verdi della scuola per sensibilizzare i più piccoli sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente. Una mattinata all'insegna dell'allegria, alla presenza anche del sindaco Giovanni Palomba. Sono presente come amministrazione comunale a piantare un albero con l'Associazione Prima Aurora. Ringrazio le dirigenti scolastiche, tutte le insegnanti di Nicola Sasso con i ragazzini della prima. Ebbè, è un momento di stare con i ragazzi per un sindaco, quindi un genitore o un nonno, è un qualcosa di importante. I ragazzi hanno piantato quest'albero, hanno fatto le loro canzoncine e anche Torre del Greco vive questa festa dell'albero. È un bel evento per ricordare l'importanza dei nostri amici verdi, un bel evento per piantare nuovi alberi, seminare nuovi semi e soprattutto ricordare di tutelare gli alberi che già esistono. Infatti abbiamo dovuto oggi anche, incontrando le istituzioni, ricordare questo importante punto. Grazie a tutti.